Salernitana le prese con numerose trattative di mercato, Donnarumma è richiesto dal Foggia che ne vorrebbe fare il nuovo bomber di Lega Pro dopo che per Iemmello, almeno per ora, non c'è stato nulla da fare per un ritorno in terra pugliese I Granata stanno ricevendo svariate richieste per Zito, il Catania e lo stesso Foggia si sarebbe fatto avanti mentre per Calaio è sempre più dura col Parma che resta in pole position per il centro attacco che Sannino vorrebbe Per Rosina affare è praticamente fatto, come abbiamo detto più volte, ma si attendono le firme Intanto con la squadra si allena positivamente l'ex paganese Deli, ragazzo che il tecnico Sannino tiene sotto stretta osservazione Nuove mosse per il futuro del calcio a Pagani, la Serie D sembra essere lo scenario che vedrà protagonista la nuova compagine che sorgerà da qui a pochi giorni a quanto sembra L'amministrazione comunale, così come previsto, ha fatto richiesta alla FGC e alla Lega DD di un titolo sportivo per il massimo torneo dilettantistico Adesso bisognerà trovare, in tempi rapidi, gli imprenditori interessati al progetto calcio azzurro stellato Riunioni si susseguono in queste ore ed è molto probabile che arrivi presto, prestissimo, una fumata bianca E siamo al primo turno di Team Cup, quello cui doveva partecipare proprio anche la paganese Nella partita tra Cosenza e Frattese, protagonista è stato l'ex capitano della Nocerina Giovanni Cavallaro che ha realizzato il gol vittoria dei calabresi che sono riusciti così ad andare avanti I rosso-blu adesso dovranno vedersela col Bari In casa Nocerina ancora novità sul fronte settore comunicazione È online da ieri pomeriggio il rinnovato sito internet che risponde all'indirizzo www.nocerina1910.it che sarà curato dal responsabile Marco Mattiello e dalla squadra comunicativa che è stata recentemente presentata dal suo Dalizio Rossonero Intanto la formazione continua a lavorare sul manto in erba sintetica di Prato-La Serra Dopo il test di domenica, con tanti tifosi entusiasti sugli spalti il lavoro di Mister Maiuri prosegue nella linea tattica del 4-2-4 con esterni di centrocampo giovani e di qualità vedi Milani e Alvino A Sant'Egidio di Montefusco i giocatori stanno vivendo un ritiro in stile clausura visto che l'albergo che li ospita è l'ex convento di Sant'Egidio con numerosi riferimenti ai frati Cappuccini Da queste parti infatti ha lasciato un segno indelebile padre Pio nel convento via ancora la cella religiosa che ospitava il santo che fu poi successivamente trasferito a San Giovanni Rotondo Grazie a tutti